Gli sale il Gesù, forse di Cesare la campana Maggiore, domenica ore 19, meno 5, è tutto nero, sentirà la sesona, non si vede nulla. Salire per le piste tre al pleno, cercherà la messa sull'entro. Intanto ti reggo le notizie storiche nelle campanze. Sì, benissimo. La chiesa è iniziata nel 1562, sopra un basamento altissimo, comprendente tre oratori. La parte superiore della facciata venne aggiunta nel 1934. Il campanile di forma rettangolare contiene tre campane. La Maggiore è del 1617, allo stemma della famiglia Graziani. Forse era stata creata per la cappella privata di questa famiglia. La Maggiore è del 1617, allo stemma della famiglia Graziani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.